Benvenuta in questa pagina per potersi iscrivere alla mia newsletter. In questo video ti mostrerò tutti i passaggi in maniera dettagliata per potersi iscrivere, cioè ti mostrerò come fare. La newsletter è nata per chi vuole approfondire determinati argomenti di make up. Perché iscriversi a questa newsletter? Perché nel momento in cui tu ti iscriverai avrai la possibilità di andare a guardare degli approfondimenti legati al make up. In questo momento sono due legati a come realizzare un trucco con una sola matita, sono diversi video e il secondo contenuto una serie di tutorial esclusivi dedicati ai pennelli, una vera e propria guida all'utilizzo dei pennelli. Perché con tantissimi pennelli in commercio spesso è molto complicato, molto difficile capire quale utilizzare, come sceglierli e soprattutto come utilizzarli. Se ci sono dei contenuti esclusivi li potrai guardare in anteprima gratuita. Per vedere i tutorial e ricevere i contenuti esclusivi ti basta compilare questo form, è totalmente gratuito. Inserendo email, nome, cognome, spuntando la casella dichiaro di voler ricevere news, risorse, offerte e poi fatto questo clicca su iscriviti. Dovrai dimostrare che chi compila il form è umano e non è un robot. Spuntando la casella poi clicca su iscriviti. A questo punto ti arriverà un'email nella tua casella di posta elettronica. Apri la tua casella di posta elettronica e troverai la mia email. Se hai Gmail ti faccio vedere come fare. Apri l'email e clicca sul pulsante sì, confermo la mia iscrizione. A questo punto sarai ufficialmente iscritta alla newsletter. Dopo poco ti arriverà un'altra email dove troverai tutti i link ai tutorial esclusivi. Per andare alla pagina dei tutorial esclusivi clicca su qui trovi tutti i tutorial. Si aprirà una pagina del mio sito con tutti i tutorial. Potrai anche passare ad altri tutorial cliccando su scopri altri tutorial esclusivi sulle matite. Quando verrà pubblicato un nuovo tutorial o contenuto esclusivo ti invierò un'email. Annuncerò sempre quando arriverà una nuova email sul mio canale YouTube nel tutorial del mercoledì. Per evitare che la mia email finisca nello spam. Se hai il computer vai su spam. Se la mia email si trova nello spam fai clic con il mouse sull'email e trascina l'email nella cartella di post in arrivo. Se invece usi il cellulare entra nello spam. Se trovi la mia email vai dove ci sono i tre puntini e arriva la voce modifica etichette e poi spunta la casella post in arrivo. Così la mia email non sarà più dentro lo spam e arriverà nella casella di post principali. Così potrai vedere sempre tutte le novità che ti arriveranno. Io ti saluto, buon make up, ciao!